Eccolimi qua sabbe ragazzi benvenuti in questo mio nuovo videoclip videoclip che è finita subito per parlare della vittoria dei bianconeri su Sassuolo per 2 a 0 gol di Gonzalo Higuain e ora il napolecano si deve tagliare il pisellino perchè ha detto vabbè lo sapete la storia del napolecano se segna Gonzalo Higuain 15 gol mi taglio l'uccello e ora lo deve tagliare poi il raddoppio di Sami Chidira e chiude l'ostilità per un 2 a 0 netto oggi la Roma ha perso, la Roma ha perso con la Doria per 3 reti a 2 ce ne siamo andati di nuovo a più 4 e abbiamo una partita potenzialmente facile contro il Crotone possiamo salire a più 7 domenica giocheremo contro l'Inter i prescritti questa partita la dobbiamo vincere devono buttare di sangue devono vincere la maglietta la devono strappare contro quei bastardi dell'Inter ok, salve, ciao